Ciao a tutti ragazzi sono iPhone Amatore e ben ritrovato in questo nuovo video dove quest'oggi andremo a vedere un gioco abbastanza impossibile infatti è un'altra puntata di The Impossible Game ok non ho la sigla, ripeto che non ho la sigla ripeto, anzi voi non lo sapete ma sono coperto dal lenzuolo perché in camera mia c'è troppo sole e quindi la telecamera guarda il riflesso dell'iPhone e non guarda lo schermo dell'iPhone ma ora andiamo a vedere questo gioco che si chiama Don't Look Back non guardare dietro allora il gioco è anche un, cioè voi pensate che è un horror però vabbè alla fine è uno spara, un mini sparatutto in 2D il problema è che è impossibile, ma non impossibile da giocare, impossibile da finire perché ogni volta che andremo a chiudere il gioco se non lo finiamo in una volta sola automaticamente ogni volta che lo riapriamo ci farà ricominciare ogni volta da capo non so se il titolo appunto c'entra qualcosa a non guardare dietro ma non lo so noi teniamo questa specie di omino di quasi, saranno 100 mini pixel che si muovono, lui ha delle gambette e si muoverà lui praticamente gli è morto qualcuno e dovrà andare avanti ma non so, la trama praticamente neanche c'è e quindi andremo a giocare ci saranno molte avventure che gli dobbiamo far fare a questo minimo, lo vedete che cammina questi qua sono i tasti per andare a sinistra e questi qua per andare a destra ora andiamo su un'altra schermata le schermate, i livelli di gioco saranno a schermate qui ci sarà il tasto a destra per saltare ci buttiamo giù da questo specie di coso e qui ci sarà già un serpente che ci ostacolerà è abbastanza difficile da giocare anche perché dobbiamo andare a tempo qui c'è un'arma che sarà la nostra pistolina durante il gioco qui andremo a saltare ok cercheremo di uccidere i nemici che ci verranno incontro in questo caso saranno appunto il serpente come prima una specie di pipistrello che è questo qui ora aspettiamo che scende oddio, oddio e poi ce ne saranno altri man mano che andremo avanti io purtroppo non sono andato molto avanti perché non ho tutto il tempo per finire questo gioco oh mio dio, ecco poi un altro è una specie di ragno che non so che cos'è per bene ecco il problema è anche questo qua che è difficile anche da giocare però ci si mette di impegno è facile ok ok oddio ecco praticamente qua io muoio sempre alla fine muoio sempre e non so il perché dovrei prendere il sto pipistrello qua ucciderelo e poi allontanare con diversi colpi i vari nemici che mi vengono incontro poi ci saranno queste specie di scosse che ci prenderanno e ci fuimineranno e oh e e e oh vabbè basta sto a fare di una specie di musichetta e poi alla fine ci sarà cioè non alla fine ci saranno dei boss ogni tot di livelli qua intanto sto cadendo per piani e piani oddio 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 due serpenti oddio oh mio dio oh mio dio qua ragnetti che cadono non so se ne sono ragnetti però so solo che cadono oh ah che maledetti vabbè facciamo così facciamo così liberiamoci anche di questi due tatatatatatatata ok e praticamente andremo avanti ah ok praticamente andremo avanti così cioè ci sono anche livelli tutti al buio in cui non vediamo una veritata ceppa e quindi dovremmo stare attenti agli ostacoli ora vi faccio vedere che se io non sapevo che qua c'era un burrone morivo quindi dovremmo ricordarci ogni volta i i vari oh mio dio sto cadendo i vari così i vari trabocchetti che ci fa questo gioco e poi ci saranno dei livelli dei si dei livelli in cui dovremmo saltare in tempo prima che queste cose si sgretolano tutte vai no non ce l'ho fatta il brutto ripeto è che par de palle brutto ripeto di questo gioco è che se non lo finiamo in una volta sola siamo fregati poi ci saranno delle piastrelle che spariscono oddio ecco grazie mille e quindi dovremmo stare attenti perché cado ogni volta cado ok qui ci vuole anche tempistiche ragazzi oddio 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 sono morto che versi faccio e quindi il gioco andrà avanti così ora andremo avanti fino al primo boss che è questo qui cioè un cagnolino del cavolo che noi gli dobbiamo sparare nel culo l'unica cosa brutta è che lui ci ci guarderà sempre cioè se noi non gli spariamo se noi non gli spariamo lui automaticamente ci guarderà perché varierà sempre verso di noi lo sapete un cane molto affettuoso verso l'uomo e quindi verrà sempre verso di noi il problema è che lui è più grosso dieci volte più grande di noi e vabbè praticamente gli dovete sparare nel sedere lui ogni volta salterà in maniera diversa e ci ucciderà cercherà di ucciderci ma io sono molto bravo in questo gioco quindi una volta gli sparo due volte gli sparo e la terza volta gli salto so e che porca trota ok non sono molto bravo in questo gioco ok ok eeeh le zampette di sto cane che so zampogne per me ole taratà taratà ok no vedete si rimbalza oddio e che palle si rimbalza sulle barriere automaticamente si cosa si rigira verso di noi oddio mio vabbè lo devo uccidere sennò non sono contento ragazzi cazzarola tieni ok ok par di palle ok facebook non romper mille e dai però faccio l'ultima volta poi se non ci riesco sti cavoli ok ok vabbè ragazzi il gioco era questo qui oddio ma l'ho ripreso fino adesso eeeh allora un saluto a tutti quanti quelli che mi seguono anche questo cane mi sta seguendo in questo momento e ce l'ho fatta si si attaccata al cavolo tiè eeeh il gioco logicamente continua dopo che hai ucciso questo cane ci saranno nuovi nuovi mostri nuovi mostriciattoli e tutte queste cosette strane vabbè ragazzi io vi saluto e questo qua era un altro impossible game perché ripeto se riuscite a finirlo ditemelo perché è veramente un'impresa non so quanto è lungo però io non me ci metto anche per più di 20 minuti non me vado a giocarci eeeh e comunque ragazzi vi saluto eeeh vi ringrazio se vi sta piacendo questa serie dei giochi impossibili eeeh per chi segue minecraft in questi giorni sto avendo problemi con minecraft perché mi va mi lagga veramente molto ma molto ma molto e quindi appena posso continuo la serie random color faccio qualche altri video di hunger game eeeh e vorrei fare anche la invasion mod appena posso ma questo è quasi impossibile detto questo ragazzi vi saluto e ciao a tutti